Interagire con le nuove generazioni per trasferire la memoria storica dell'emigrazione grassanese. E' questo l'obiettivo delle iniziative dell'Associazione Hauser e dell'Università dell'Età Libera guidata da Giuseppe Vignola, che il 6 febbraio scorso ha promosso l'incontro. L'Auser si racconta storie di emigrazione. Protagonisti di questo scambio intergenerazionale sono stati gli alunni dell'Istituto Comprensivo Il Vento, giovani giornalisti in erba. Un percorso condiviso con la scuola per favorire la nascita non solo di un dibattito su tematiche attuali come le nuove emigrazioni, l'accoglienza e l'integrazione, ma soprattutto teso a trasferire la storia locale sull'emigrazione alle nuove generazioni, come valore aggiunto di una comunità. Alcuni soci dell'Auser hanno raccontato ai ragazzi la loro personale esperienza di emigrazione vissuta negli anni 50, quando le mete erano la Germania, la Svizzera o le miniere di carbone in Francia. Tutti hanno ascoltato con attenzione ed emozione le storie di chi come nonna Pasqua nel 1969 ha raggiunto la Svizzera lasciando a Grassano la propria bambina che al suo ritorno non le è corsa fra le braccia perché non si ricordava più di lei. Dopo di sei mesi l'ho fatto venire in Svizzera. Io sembravo che arrivava Gesù al treno, però il bambino... Maternità ferite che legano tante donne del Sud, partite giovanissime e spesso sole, come Antonietta, arrivata a Chiasso dove non ha trovato la sorella ed ha dovuto proseguire sbagliando treno, affrontando da subito la difficoltà più grande, ovvero una lingua diversa. Nel racconto di Giacomo tutta l'incoscienza della giovinezza e il dover diventare adulti in fretta, trasportando carichi di carbone. Allora a Grassano non c'era tanto da mangiare, non c'era niente, i soldi non si vedevano. Allora ci mettiamo d'accordo tre o quattro ragazze che ce ne dobbiamo andare e ci partevano. Per andare in Svizzera, i 60, io ho partito, il 30 novembre 1960, mio padre venne a mettere la firma sul passaporto. La condivisione di case fattiscenti con gente sconosciuta, la condivisione dei vestiti, delle scarpe, cose incomprensibili per le nuove generazioni, ma necessarie da raccontare per far comprendere un momento storico in cui ancora una volta era il Sud Italia a pagare il prezzo più alto. Frammenti di vita raccontati con dignità, senza nascondere la povertà e le paure, come quelle di Nonna Maria, emigrata in Francia per alcuni anni, abitando nelle baracche di legno intorno alla miniera, spaventata dal suono delle sirene che annunciavano quotidiani incidenti mortali. L'ingegnere che lavoravo giù nella miniera l'hanno tirato tutto scotto. Allora mio marito ha avuto paura e ha scritto ai miei fratelli in Francia, al nord, dice, qui è successo questa cosa, ma io adesso mi trovo qui. Dice, no, vieni in Francia, vieni a trovarci, che qui lavori nelle miniere. Maria ha raccontato del ritorno, dopo alcuni anni, in quella Grassano, dove, a differenza della Francia, il cielo lasciava vedere le stelle. Gina, invece, con il suo doppio lavoro e quell'emigrazione stagionale per assicurare ai propri bambini di studiare in Italia. E infine a Polonia, che racconta di quelle parole offensive di un tedesco non certo accogliente e di suo figlio che proprio non voleva parlare l'italiano. La parola sacrificio, quasi mai pronunciata nelle testimonianze, è spesso sostituita da sorrisi che soffocano il pianto. All'incontro è stata invitata la testata giornalistica online Sud Italia Video di Montescaglioso, che sta raccogliendo testimonianze di emigrazione per un progetto di Banca della Memoria. L'iniziativa continuerà perché in Basilicata è cresciuta la consapevolezza dell'importanza di raccogliere le storie di vita di un passato che oggi permette di costruire ponti e legami con chi non è ritornato ma conserva e trasferisce cultura e tradizioni.